Dal 2010 ci sono più di 100 giornalisti, stiamo parlando di 143 giornalisti uccisi in un paese che dal 2010 ha cambiato governo. Il governo dell'alternanza è arrivato e ha cominciato a essere un problema perché pensavamo che con l'alternanza nel governo sarebbe stato più libertà e invece non è stato così. Noi siamo nel mezzo di una guerra contro il narcotraffico che ha dichiarato il presidente Calderon all'inizio del 2013, però in realtà c'è la corrupzione e l'impunità che ci ha portato ai livelli che siamo adesso. Nonostante i fori, nonostante le denunce che tante persone stanno facendo a livello internazionale, le cose in realtà che stanno cambiando pochissimo. C'è qualche aiuto per i giornalisti che fuggono, che sono salvi, ma in realtà contro il governo non si fa nulla. Io parlavo prima di una ipocrazia internazionale perché gli affari con il Messico sono tanti, sono molto importanti, quindi fanno finta di non vedere questa problematica e ovviamente danneggia la situazione anche per i giornalisti. L'impunità in Messico è quasi al 100%, c'è una impunità del 99.7%, questo è gravissimo, per la corruzione che esiste, in tutti questi reati, in tutti questi assassinati che esistono. Sempre è coinvolto un funzionario pubblico, un poliziotto o un poliziotto, non solo il crimine organizzato. Si sa che dietro più della metà di questi attacchi ai giornalisti c'è un funzionario pubblico del governo. Poi c'è un'autocensura dei giornalisti, prima per la paura e poi anche per la corruzione, purtroppo.